ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese due premesse intanto che sto testando questo rossetto e se la durata mi piace sarà sicuramente uno di quelli che riquesterò per voi da mettere come premio quindi fatemi sapere se vi piace e perché come premio se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per saperlo quindi vi ricordo come sempre di essere iscritti e lasciarmi un commentino altra premessa velocissima da questo mese ho pensato che invece di tre prodotti ne faccio 5 così vi tengo compagnia per un pochino più di tempo e intanto riesco a mostrarvi qualche altro prodotto in più perché sapete che le ditte me ne mandano sempre talmente tanti che ne provo tantissimi oltretutto tanti li compro anch'io quindi davvero ne ho sempre tantissimi e mi piace parlarne con voi però voglio stringere per non fare un video troppo lungo quindi 5 prodotti da questo mese il primo di cui vi parlo sicuramente è questa crema per le mani del di tiger incredibile ho trovato una crema mani da tiger ho guardato il prezzo è un 30 ml e normalmente il prezzo sarebbe di 3 euro quindi abbastanza cara per un 30 ml ma io l'ho trovata tra i codici in promozione a 1 euro e ho voluto provarla allora intanto la crema è questa quindi quelle classiche da borsetta da 30 ml poi è alla menta io ho trovato solo questa versione non so se ne hanno fatte altre dice crema mani ok è un made in italy guardando l'inci ha un po di roba che non è proprio il massimo come la faraffina ad esempio però comunque ne trovate anche di peggio ricordiamoci che è una crema che in promozione costa 1 euro sinceramente ne trovate di più care con un inci peggiore quindi comunque cosa dire di questa crema è fluida leggera si stende molto velocemente assorbe molto velocemente ma ha un potere idratante basso ottima da applicare più volte durante il giorno oppure a tenere in borsa da usare durante il giorno però ha un potere idratante basso quindi magari per la sera o se avete le mani molto screpolate preferite le altre oltretutto è alla menta e ha un profumo di menta ma proprio menta che però persiste poco sulle mani diciamo che mi ricorda molto avete presente le vigorsol ma quelle no non le vigorsol le brooklyn le le gomme da masticare della brooklyn quelle strisce che vanno scartate ecco le brooklyn identico e sapore e sapore odore identico e sapore non lo so non l'ho provata da mangiare odore però il profumo è lo stesso a un euro si ci sta a tre euro è un po troppo e però se le fate in promozione dateci un'occhiata noi andiamo avanti con il secondo prodotto ed è questo bagno doccia della bottega verde nella versione al cocco e questa è una mini taglia da 50 ml ma ho segnato i prezzi perché 50 ml viene 1 euro e 99 con le promozioni periodiche scusate un secondo io devo imparare a non tenere attaccata la videocamera esterna quando faccio i video perché sono sempre lì a controllare cosa succede e qui le cose ne succedono davvero tante non sembra ma davvero tante comunque abbiamo detto 50 ml con le promozioni le trovate in negozio in vari periodi oppure online ad esempio con gli outlet che ci sono periodicamente se no la confezione grande da 400 ml viene 7 euro e 99 e comunque sono i prezzi punto verde quindi non sono mai scontabili comunque la confezione è questa e cosa dire di questo bagno doccia intanto che è a mio avviso perfetto per il periodo estivo perché il cocco è cocco e fa subito estate ma oltretutto aspettate sì esatto c'è proprio di cocco cocco che comunque ha una nota dolce quindi potrebbe andare bene in qualunque stagione ma ho trovato che è adatto per le docce soprattutto frequenti perché fa una schiuma delicata leggera che non è troppo soffice ecco proprio una schiuma apposta per fare una doccia veloce e si rimuove facilmente lascia la pelle pulita non la secca la trovo adatta per i lavaggi frequenti se non per il periodo estivo perché è molto limitato per la palestra ecco in questo caso sì anche quel dolore che ti coccola un attimo e intanto da una nota che ti avvolge e pulisce bene ma non fa una grande schiuma però mi è piaciuto e io direi che in questo caso andiamo avanti con il terzo prodotto e vi voglio parlare di questa che è la mousse corpo della Nivea questa è la mousse corpo dice 48 ore nutriente assorbimento ultra rapido sia ad adattazione intensa con olio di mandala per la pelle secca e molto secca allora la confezione è un 200 ml esatto e ho guardato il prezzo da Tigotà viene 4,48 euro dunque questo sì è un prodotto che mi avevano inviato ma ho completamente finito e come si presenta così qui si schiaccia ed esce una leggera mousse che va a idratare il corpo allora io l'ho utilizzata soprattutto ah prima agitatela bene se no esce solo aria e non la mousse ovviamente l'ho provata soprattutto dopo la doccia e ho trovato che questa mousse si stende bene cioè è corposa e si va a stendere bene sul corpo quindi tranquillamente un bel massaggio anche non applicatene troppo per volta perché risulta ricca sulla pelle è un po' oleosa ma assorbe abbastanza velocemente quindi effettivamente è adatta per la pelle secca allora pelle molto secca non lo so perché è idratante sì ma credo che una crema bella ricca sia molto più idratante quindi per la pelle secca oppure per il periodo invernale oppure dopo la doccia una coccola che sì ci sta ovviamente non usatela in estate a meno che non avete la pelle davvero molto secca perché è corposa inutile è inutile è corposa olio di mandorle effettivamente sì e sa un po' di mandorla ma poco ricorda poco la mandorla però è leggermente persistente sulla pelle leggermente persistente ok alla fine è un prodotto che mi hanno mandato è inutile che dico sì no sì mi è piaciuto pelle secca in inverno oppure molto secca in estate perché è una mousse corposa e cosa che volevo dirvi perché è giusto dirvelo io la Nivea i prodotti della Nivea li ho snobbati per anni prima li prendevo e li prendevo io e li ho usati per tanti anni poi ho smesso di usarli quando c'è stato un attimo anni anni fa quando hanno iniziato ad esserci più prodotti disponibili anche nella grande distribuzione perché questo è un marchio che ha un inci lo sappiamo hanno rifatto le formulazioni quindi l'inci è un pochino migliore ma devo dire che continuo a guardare e tra gli ingredienti c'è sempre la paraffina liquida e tornando un attimo veloce c'è il dimeticone quindi ecco sto guardando le stelline a tre stelline su cinque dal bio dizionario quindi ha riformulato la composizione dei suoi prodotti ed è migliorata ma non è ancora il massimo però adesso si equivale a tantissimi altri prodotti da grande distribuzione quando prima era davvero pessima quindi pollice in su perché ha migliorato ma Nivea offre luce in te e puoi ancora migliorare e noi intanto andiamo avanti con il quarto prodotto e il quarto ecco questo sì che è davvero un prodotto di cui mi interessa scusate qui volano peli allora vi parlo di questo prodotto dell'equilibra aloe protezione naturale sarebbe un latte dopo sole con il 40% di aloe vera poi con olio di carota vitamina E dice di essere idratante senza parabeni e siliconi complesso idratante naturale ok allora la confezione questa che ho io è un 75 ml ma ve la mostro questa qui ok 75 ml ma ho guardato da qualche parte ci deve essere ecco ho guardato perché sto guardando cosa ho scritto 150 ml viene 4,99 euro da Tigota quindi controllo sempre nei negozi e cosa dire ecco questo sì che è un prodotto per il corpo che mi è piaciuto perché intanto parliamo dell'equilibra Made in Italy certificazioni, bio e tutte quelle che volete senza parabeni, senza petrolati, senza siliconi delicatamente profumato con latte di mandorla e vitamina E quindi potrei andare avanti ore a elogiarla comunque guardiamo il prodotto intanto è una crema dice di essere un dopo sole ok io non stando al sole oppure non servendomi come dopo sole l'ho provata come crema idratante e mi è piaciuta tanto è una crema fluida che si stende benissimo non lascia scia bianca si assorbe molto velocemente ma lascia la pelle è bella idratata bella 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 anche dopo la doccia la senti subito più idratata più morbida super super funzionale oltretutto ci si può vestire subito dopo perché assorbe davvero velocemente comunque avendo l'aloe dentro e guardando l'incisi è davvero l'aloe ai primi posti la trovo davvero ottima come dicono loro giustamente anche come dopo sole perché va a lenire la pelle il profumo perché a voi interessa anche questo è fresco ricorda molto dopo sole effettivamente se non mi schiacciavo il dito dentro il tappo magari era meglio comunque sia mi è piaciuta mi è piaciuta sia come crema idratante sia come dopo sole è valido quindi volete un prodotto valido da grande distribuzione perché avete visto che la trovo da tigota buona come inci andate sull'equilibra che non vi sbagliate mai ultimo prodotto per questo mese ed è questo dunque questo è lo so incredibile ma è il balsamo labbra del labellino questo azzurro che dovrebbe essere alla menta lip balm ok che si apre così e io ho completamente finito ok ma adesso ve ne parlo allora intanto la confezione è un 7 grammi e il prezzo è di 4,99 euro da tigota e la confezione è questa qui ok allora è carino è carino è carino è sfizioso è puccioso è tutto quello che volete sì mi è piaciuto da provare allora devo essere sincera io la labello l'ho accantonata tanti anni fa per via dell'inci che era proprio tremendo e adesso hanno riformulato adesso da un po di tempo e la labello ha riformulato tutti i prodotti e devo dire che l'inci è un po migliorato perché non ha più farafina non ha più silicone quindi è un prato che diamo sulle labbra quindi che magari è con la lingua con i denti andiamo anche ad ingerire meno schifezia meglio è è migliorato ma non esageratamente perché comunque trovo sempre la cera micro cristallina e troviamo ancora delle cose Comunque adesso è più in linea con i balsamo labbra da grande distribuzione, quando prima era davvero tremendo, adesso più o meno è in linea. Cosa dire di questo prodotto? Allora, la confezione è la cosa più... scusate, proviamo ad abbassare le luce, telecomando... Torniamo alla luce, telecomando... ok, allora, è la cosa più sfiziosa di questo mondo, è bella anche da tenere sopra il mobiletto. Vi ho fatto delle clip perché è completamente finita, come avete visto, e ok, ha un odore di menta leggera, sentite sulle labbra, quando l'applicate sentite un po' il fresco della menta, ma non ha odore, non ha sapore, non ha niente. E cosa dire? Lati positivi, si stende bene, non appiccica, non lucida ed non va sui bordi, ok. Lati negativi, potere idratante, basso, ma basso, basso. Quindi dovete andarlo ad applicare tantissime volte, anche perché non è di quelli che va a idratare. Ti lascia quel film sulle labbra, protettivo, ma appena sparisce, sentite, bisogna andarlo ad applicare di nuovo. Altra cosa negativa, che però è una cosa che... questa è la copia, esatta, del famosissimo EOS, il balsamo labbra, quello in barattolino. Ed effettivamente anche in quello, che costa tantissimo, l'EOS, ho riscontrato lo stesso difetto. Che cos'è? Lo vedete meglio dalle foto del prodotto intero, ma che, penso che c'è che farvi vedere, ecco, che qui c'è la ghiera in plastica e sotto c'è tantissimo prodotto, cioè è quasi tutto sotto, ecco. È tutto dentro e quindi considerate che la dimensione è questa, quindi c'è tanto prodotto dentro che sinceramente non si estrae, quindi almeno che non andate a togliere, tagliandola, tutta questa parte in plastica e poi andate a usarlo con il dito, con un pennello che non è proprio molto igienico e non sapete come usare il prodotto. Io lo uso, al fine l'ho prelevato ogni volta e poi lo applicavo ogni volta, quindi con una spatolina andavo a prelevare dai buchini e poi lo applicavo perché volevo assolutamente finirlo e non mi piacciono gli sprechi, però tutto quello che volete, ma a praticità no. È però vero che è la copia, è ispirato all'EOS e è stesso problema che dà anche l'EOS che è l'originale, quindi non è che è un problema della bellina, è un problema di quelli formulati in questo modo, anche se ne ho visti alcuni che costano molto meno e che hanno un'idea di packaging migliore, ma questo ve ne parlo ora un'altra volta e con questo abbiamo finito i 5 palotti scoperte del mese, di questo mese, ma dai, quindi siamo arrivati a, sì diciamo che posso farcela, 5 palotti, vi tengo con la compagnia e ve ne parlo un po' di più, quindi adesso basta, nei commenti qui sotto ci siamo detto, siete pronti comunque a questi palotti? Cosa ho detto? Se avete provato qualcuno di questi palotti, come vi siete trovate, se qualcuno vi è ispirato, se vi sono stata utile e come sempre vi do appuntamento alla prossima recensione, ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me, lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!